Il giorno dopo la conferma del divieto di dimora a Riace, per Mimmo Lucano, l'ex sindaco della cittadina calabrese, inizia il processo all'Ocri. Prima udienza con Tribunale Off Limits per evitare tensioni, dato che l'uomo è diventato un simbolo dell'Italia che i migranti li vuole accogliere. Entrando in Tribunale, Lucano ha parlato con i giornalisti. Non voglio dire un processo politico, però c'entra molto. Io ho fatto una scelta da sindaco di essere vicino alle persone che non hanno voce. L'ex sindaco che fece di Riace, ora amministrato dalla Lega, un modello inclusivo per i migranti, è imputato insieme a 26 collaboratori a vario titolo. Le accuse, legate a una serie di irregolarità nella gestione dei migranti per Lucano, vanno dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina all'abuso d'ufficio, al peculato, alla concussione. Intorno al sindaco messo ai domiciliari a ottobre, ora con divieto di dimora, è sorto un importante movimento di solidarietà e diverse decine di suoi sostenitori si sono avvicinati al Tribunale nel giorno della prima udienza.